Colin, ti posso chiedere una cosa? Ma certo. Potresti baciarmi. Penelope. Non avrebbe nessun valore. Io non pretenderò niente da te in seguito, ma sto per finire sullo scaffale e non sono mai stata baciata. Non so se lo sarò mai. Potrei morire domani. Non morirai domani, no? Ma potrei e mi ucciderebbe, sì. Ma saresti già morta a quel punto. Io non voglio morire senza essere mai stata baciata. Ti prego. Colin. no, 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 no. Grazie. Grazie.